Densit sbarca in Umbria? Eh sì, qui a Perugia. Siamo qui, veniamo qui con tre spettacoli, dopo aver fatto Milano, Sanremo, Brescia, Firenze, tutte le città più importanti d'Italia, perché no, anche Perugia è una città importante, e saremo qui. Sende, lei c'è una vita che potrebbe fare un film, un libro. Lei inizia come fisioterapista di Rudolf Nureyev e ne è diventato il manager per 26 anni. Allora, io quando ho iniziato a lavorare con Nureyev ho sempre avuto la mania dell'organizzazione, perché poi in quel momento c'era, penso a un ciclista, Merckx, che aveva il suo fisioterapista e manager. Allora ha detto, vorrei fare come lui, e ci sono riuscito, insomma. Ma poi nella vita tutti noi abbiamo un percorso già tracciato, l'importante è metterci impegno in qualsiasi cosa si faccia, e io l'impegno a fianco a Nureyev ce l'ho messo tanto. Ce lo sto mettendo anche adesso, perché mi piace fare delle cose importanti, e sono andato in Russia a trovare questa compagnia, che loro in San Pietroburgo si esibiscono all'Ermitage, che c'è un piccolo teatro di 500-600 posti, molto bello, è sempre pieno tutte le sere, e adesso ho la fortuna di portarlo in Italia, e qui a Perugia, e niente. L'altra compagnia è una compagnia di Madrid, che sta girando adesso, stasera sono a Genova, sta avendo successo, abbiamo fatto Viterbo l'altra sera con Almancinelli, con un enorme successo, insomma. La base c'è, poi la gente se ci vuole seguire, vedrà che non rimarrà contenta. Come è cambiato il mondo della danza, dai tempi di Nureyev? Vabbè, no, Rudolf l'ha inventato in un certo senso, perché prima c'era la ballerina e l'uomo era il porteur, poi Nureyev ha detto, beh, ci sono anch'io. Sai, poi ci sono tanti figli di Nureyev, ma figli un po' così, perché come Nureyev, io fino ad oggi non, io credo che no. Mi ricordo una volta, ero in macchina, e ho sentito un'intervista di Franco Zeffirelli, che parlava della lirica, e diceva, c'è stata la Simionato, la Tebaldi, e così via, di Stefano, del Monaco, Corelli, e poi c'è stata la Callas, che era un'altra cosa, come nel mondo della danza, c'è stata la Carla Fracci, la Ivette Chauvire, Margot Fontè, e così via. Poi c'è stato Nureyev, che era un'altra cosa. Sono dei miti, delle persone che non si può riconoscere che loro hanno cambiato il mondo della danza, come la Callas ha cambiato, o Pavarotti ha cambiato la lirica. Prima di Pavarotti il bel canto era così, solo dell'elite, però adesso tutti quanti sa chi è Pavarotti, tutti sa cantare qualche aria di Verdi. Lei portò Nureyev anche al Festival dei Due Mondi, a Spoleto? Sì, molte volte, con Menotti, che era una persona incredibile, quelle persone che lui ha creato il Festival dei Due Mondi, è morto lui, è morto il Festival, adesso se ne sente parlare poco. Portai Nureyev due o tre volte, non ricordo bene, ma due volte senza altro, forse anche tre. Il primo contratto che fece con Nureyev? Al Metropolita di New York, al Metropolita, che l'ho raccontato prima, fu un'emozione enorme, una grande soddisfazione, perché era in un periodo così, c'era un solo volo, Milano-Palermo-Milano-New York, a Z601 alla settimana, adesso ce ne saranno 30 al giorno, che parte da qui, arriva, eccetera. e io ebbi la fortuna di prendere uno di quei voli e poi feci il primo contratto al Metropolita, che per me è un grande ricordo.